ora giusto per darvi un'idea della situazione che c'è dentro il sole perché adesso ho usato termini molto generici cioè che mi serve scaldarli tanto mi serve che siano molto vicini cosa vuol dire concretamente questa cosa quant'è la temperatura del nucleo del sole quello è sulla superficie 28 no 28 mila no 16 milioni di grammi kelvin a caldino al nucleo sulla superficie siamo i 5 mila kelvin quindi nel nucleo fa talmente talmente caldo che non ci sono atomi che esistono in quanto tali torrate solo nucleoni e delle toni che se ne vanno in giro e il sole non è neanche così caldo c'è il peggio in giro nell'universo però comunque freddo non è quant'è la densità del nucleo del sole questa la dico direttamente io questa è 1,5 per 10 alla quinta chilogrammi al metro cubo so che detto così non vuol dire niente per cui prendiamo un termine di paragone qual è l'elemento più denso esistente sulla terra il piombo il piombo quant'è la densità del piombo giusto per avere un paragone poi non voglio che mi sappiate la densità del piombo però è per capirci qui il piombo è 1,1 per 10 alla quarta chilogrammi al metro cubo quindi il centro del sole anche se è fatto di nuclei di idrogeno e compagnia è 10 volte più denso del piombo ok quindi è una situazione veramente veramente strana quindi questi nuclei di idrogeno sono talmente appiccicati tra loro che per forza prima o poi riscono e diventano meglio ok tutta l'energia che noi riceviamo dal sole il calore la luce è proprio questa cuba cioè l'energia che si libera dalla fusione dei nuclei di idrogeno diventa energia che poi scappa via dalla superficie del sole e a noi arriva sotto forma di calore luce radiazione e quant'altro domande fino a qua ragazzi da posto ok quindi cosa vuol dire se lascio il sole per qualche miliardo di anni miliardo di anni anzi un miliardo prima o poi si spegne perché va bene che è gigantesco però prima o poi l'idrogeno finisce ok il sole allora il nostro sole è vecchio quanto è vecchio il nostro sole? cinque miliardi di anni cinque miliardi di anni ok dovrebbe aver superato la metà del suo ciclo vitale quindi dovrebbe spegnersi non è proprio così semplice però dovrebbe esaurire il combustibile interno tra un tre quattro miliardi poi le stime sono molto indicative perché nessuno riesce ad andare dentro a vedere il nucleo come messo che è una stima che diamo in base a quello che sappiamo delle stelle però tra un tre quattro miliardi di anni si spegnerà grazie al cielo non ci saremo per vederlo quando comincia l'energia esplode? allora in realtà esatto il sole quando comincerà a esaurire tutto il carburante non esploderà perché non è abbastanza grosso ci sono stelle molto più grandi di questa che saltano in aria che sono le supernode il sole semplicemente si espanderà perché c'è tutta una serie di processi chimici e fisici per cui all'interno continueranno delle reazioni ma la gravità e la pressione non saranno sufficienti a compensare l'energia prodotta per cui fa tipo effetto palloncino si gonfia si gonfia dovrebbe arrivare più o meno all'orbita di Marte se non ricordo male quindi ci piglierà dentro adesso e poi è un bel mistero nel senso che adesso il sole è così quali sono i pianeti? i pianeti dopo il sole Mercurio Venere Marte la Terra poi c'è Marte e poi ci sono tutti gli altri Marte non è prima di Venere se non sapete che l'idea è va bene non abbiamo ancora colonizzato lo spazio ma il primo obiettivo per o meno dovrebbe essere arrivare su Marte su Marte possiamo avere qualche vaga idea di poterci stabilire perché non è così freddo ma non è così caldo perché le notte su Marte andiamo su in meno no ciao è più sotto mi pare meno 100 o meno qualcosina fa proprio per il periodo pesante però col periodo ci si vive su Venere fa talmente caldo che non ci possiamo andare quindi non è per forza andare là quindi se il sole è così quando esaurerà il combustibile comincerà a espandersi dovrebbe arrivare a una roba del genere ci piglierà dentro dopo molto probabilmente si ridurrà ancora anche lì lo scoppia diventerà una stellina molto molto piccola molto molto fredda e poi rimane lì finché non solo ci facciamo un buboliero o qualcosa non lo sappiamo non lo scenderà vabbè ci devo fare una squadra poi non lo sappiamo cosa? si 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 è possibile che sia formato questo coso cioè perché nello spazio a un certo punto c'è una palla di idrogeno che si forma lì sapete come si formano le stelle? gli asteroidi fanno cosa? si ma da dove saltano fuori? quindi che si formano cosa? perfetto cioè perché all'improvviso ci sono delle palle giganti incandescenti di idrogeno lo spazio è pieno zeppo di idrogeno l'universo è pieno di... l'universo è idrogeno con un pizzico di altro altro ovviamente è tutto idrogeno e è pieno di atomi idrogeno che se ne vanno in giro da soli cosa succede? se ce ne avete abbastanza vicini questi piano piano cominciano ad attrarsi uno con l'altro perché? perché si attaccano? per esempio per la gravità ora partite da 4 ottomini poi cominciate ad aggiungerne altre pian piano si aggregano, si aggregano, si aggregano alla fine cominciano a formare una cosa più grossa e pian piano si forma una stella allora che senso? la gravità c'è sempre cioè a linea di principio io e una stella che sta dall'altra parte dell'universo ci attraiamo per gravità poi è talmente debolla attrazione che non è che vengo portato via dallo spazio però se non c'è niente lì vicino questi cosi sono abbastanza... sono abbastanza vicini crescono all'attrazione però la stella che non ci attrava abbastanza si, perché di fatto è fatto di gas però l'altro se questa volta è avuto il tempo che mano a mano si riluppa si no, perché intorno a giove non c'è abbastanza materiale probabilmente poi anche lì non è così semplice perché per esempio questo è il meccanismo di base ci sono poi degli eventi nella vita dell'universo che probabilmente hanno favorito i grassi delle stelle per esempio avete questa nube però lì vicino c'è una stella che salta in aria che è una supernova cosa succede? questa roba esplode arriva all'onda d'orto e che cosa fa? spinge gli atomi e li obbliga ad aggregarsi quindi questa è un'ipotesi per esempio di formazione del sistema solare cioè il nostro sole forse tutti i pianeti di trono si sono formati perché c'era una nube di materiale poi è arrivata un'onda di supernova ha schiacciato tutto in una zona molto molto piccola si è formato un sole si è messa bene intorno ok vi dico l'ultima cosa poi passiamo avanti qui reagisce l'idrogeno cosa si forma? abbiamo detto della fusione dell'idrogeno si forma l'elio e uno dice quindi l'elio cosa fa? in realtà anche l'elio fonde cioè se voi prendete degli altri di elio ok o anche elio più idrogeno questi qua li potete venire per esempio l'idrogeno qui formano il litio che è un pochino più in alto nella curva del difetto di massa ok l'elio di litio se aspettate abbastanza tempo anche il litio reagisce con i suoi vicini comunque con quello che gli capita tiro quindi nel nucleo la maggior parte dell'idrogeno c'è un po' di elio un pochino di litio un pochino dei prodotti successivi quando si ferma questo processo? al ferro al ferro perché? si ferma al ferro perché? si ferma al ferro e ma perché? l'idea è perché finché posso finché salgo va bene ma arrivato al ferro mi devo fermare perché l'idea è finché salgo nella curva la reazione libera energia giusto? c'è il famoso più q arrivato al ferro se vogliono proseguire qua cioè scendere la reazione non libera quella energia ma se la ciuccia cioè avete bisogno di dare energia a quella roba non è che si può creare energia da nulla dentro del sole quindi le stelle più grandi il sole non ci arriverà mai ma le stelle più grandi quando saltano in aria e diventano supernove al centro sono un gigantesco un occo di ferro ok? arrivato a quel punto non fonde più niente la pressione è talmente forte che salta tutto qua in aria perché non c'è più spazio per contenere tutta quella materia